Ben 30.000 metri quadrati di terreno agricolo pregiato stanno per essere sacrificati con consenso dal comune di Cremona, che ha dato il via libera all'ampliamento richiesto dalla società Avantea, il centro di ricerca biomedica reso famoso dal rilievo internazionale delle scoperte del professor Cesare Galli. Italia Nostra e Lega Ambiente hanno avuto non poco da ridire, consegnando considerazioni e osservazioni, anche perché l'amministrazione ha avviato una variante puntuale al piano di governo del territorio invece del piano attuativo. Italia Nostra, rappresentata dall'architetto Michele De Crecchio, ha lamentato l'assenza del comune confinante di Persico-Dosimo, che patirà le conseguenze ambientali più di Cremona. La previsione più amara riguarda la Gronda Nord, che lo stesso sindaco Gianluca Galimberti ha inserito nel programma elettorale, una collata d'asfalto che potrebbe incrementare notevolmente il traffico in con la Paulese e Cavatigozzi. È infatti terreno di espansione edilizia. Sono state costruite nuove villette vicino a Porcellasco, nel quartiere Maristella, ancora prima di recuperare gli edifici dismessi a pochi metri dalla sede di Avantea. L'ampliamento potrebbe favorire quindi l'ulteriore cementificazione della zona. Italia Nostra chiede poi adeguate dotazioni di alberi e parcheggi, oltre alla prescrizione del colore rosso o bruno per le coperture dei tetti, secondo la tradizione. L'Egambiente a propria volta avrebbe gradito un'espansione verso sud, quindi con il recupero della cascina dismessa e una riduzione del consumo di suolo agricolo, oltre a una cospicua fascia cuscinetto a verde tra i nuovi edifici e i campi coltivati. In questi giorni dall'amministrazione provinciale, nell'ambito della valutazione ambientale strategica, è arrivato il parere motivato finale con richiesta di mitigazioni. All'ARPA in particolare il Comune risponde che la cascina dismessa ha un proprietario privato diverso, che può solo essere invitato a procedere al recupero.